Grazie Angela, noi siamo qui nella sede della coalizione civica, a fianco a me Luciano Lombardo e Marco Careddu, abbiamo già avuto i primi risultati, il quorum sul referendum del nucleare è stato raggiunto, le prime impressioni? Le impressioni sono buone anche perché finalmente un referendum raggiunge il quorum e siamo contenti che i sardi siano andati a votare e che abbiano detto no al nucleare. Cosa risponde a chi chiede il nucleare in Italia e non in Sardegna? Beh, hanno risposto i sardi per me, noi diciamo no al nucleare, alle scorie, a tutto quanto, tutto ciò che è nucleare penso che sia una situazione già sorpassata, quindi dobbiamo guardare più avanti a nuove fonti di energia. Marco Careddu. Non posso che condividere l'idea di Luciano che è poi quella di noi tutti sardi e per fortuna abbiamo risposto sì al referendum, sicuramente per la Sardegna è una grande cosa e sicuramente la Sardegna può vivere di altre cose, non del nucleare, come il turismo e tante altre attività che si possono intraprendere. Mi ritengo soddisfatto e sono contento di quello che è stata la decisione di tutti noi sardi. Grazie. Hanno le idee chiare i nostri candidati? Ridiamo la linea. Grazie.